È inutile, totalmente inutile, al giorno d'oggi rappresentare le cose per un senso legato unicamente all'estetica. L'estetica è un falso mito. I nostri tempi sono tempi diversi, duri volendo, da un certo punto di vista, semplici, per altri, indubbiamente. Però, secondo me, il ruolo dell'arte è quello di fotografare il tempo dell'odierno. Io fotografo quello che vedo nel tempo in cui vivo. Mi piacerebbe non essere un bate, mi piacerebbe che un giorno le nuove generazioni potessero vedere foreste verdi e rigogliose e non foreste di alberi morti, come sono gli alberi che rappresento io a questo seno.